Carissimi e carissimi, ritorna dopo la pausa estiva il nostro appuntamento in dialogo con l'Europa. Cinque minuti nei quali vi racconto cosa succede a Bruxelles e a Strasburgo per tenervi informati, per avvicinare il Parlamento europeo e le sue politiche ai nostri territori. L'Europa è lontana e per molti un oggetto misterioso. Questo vale anche per l'Italia e per gli italiani, pur essendo il nostro fra i Paesi fondatori dell'Unione europea. A tal proposito c'è un punto della riforma della Costituzione che sarà oggetto di referendum di cui poco si parla, ma che cerca di ridurre questa distanza. Nell'articolo 55 della Costituzione riformata, l'Unione europea viene pienamente riconosciuta nell'assetto istituzionale della Repubblica italiana e soprattutto nella vita di tutti i cittadini. C'è un rafforzamento quindi dell'impronta europea dalla Costituzione italiana. Fra le funzioni del nuovo Senato, definita anche Camera d'Europa, ci sarà infatti quella di partecipare alle decisioni dirette, alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e a verificarne concretamente l'impatto sui nostri territori. Se vincerà il Sì al referendum avremo un nuovo Senato composto da 100 membri contro gli oltre 300 attuali, con la fine quindi del bicameralismo perfetto dove la Camera e il Senato fanno le stesse cose con questo ping pong di leggi che vanno avanti e indietro con tempi lunghi e prospettive incerte. All'Europa oggi si chiede di rilanciare la crescita, gli investimenti, di affrontare la piaga della disoccupazione soprattutto giovanile che supera il 20%. Ma con quali soldi, con quale risorse? Questa è la domanda. Una scelta che va nella direzione giusta è quella di combattere l'evasione e l'elusione fiscale. Non serve andare, non c'è bisogno di andare nelle isole del Pacifico per trovare i famosi paradisi fiscali. È una concorrenza sleale. Dall'ultima richiesta che la Commissione europea ha fatto ad Apple, la multinazionale, di versare 13 miliardi di tasse non pagate all'Irlanda, che è un paese membro della Unione europea, evidenzia chiaramente la portata del fenomeno. In questo caso, per ogni milione di euro di profitti, Apple ha pagato 50 euro di tasse, pari allo 0,005%, una percentuale da definire scandalosa. L'Europa deve quindi rapportarsi alle multinazionali in maniera unita, come continente unito, definendo un quadro legislativo unico, poche regole chiare e uniformi per l'accesso al mercato più grande del mondo. Noi siamo il mercato più grande del mondo. 28 regimi fiscali diversi generano una competizione sleale dentro ai confini dell'Unione. Bisogna lavorare per una loro graduale armonizzazione, che insieme a politiche, penso io, di sicurezza e di difesa comune, creano di fatto un'Europa più unita, di cui c'è un gran bisogno. A proposito di Europa utile e vicina ai nostri giovani, sono usciti in questi giorni i bandi per il tirocinio Schumann, ben 600 posti disponibili al Parlamento europeo negli ambiti del giornalismo, dei diritti umani, negli uffici parlamentari. Il tirocinio dura 5 mesi, è ritribuito, inizia il 1 marzo 2017. Il termine ultimo attenzione per presentare le domande è il 15 ottobre 2016. Per poter accedere al bando, basta avere una laurea almeno triennale. Per ulteriori informazioni, per trovare il bando, vi invito ad andare sul mio sito internet www.damianosoffoli.com Per quel che riguarda, abbiamo parlato dei giovani, invece i nostri nonni, mi sono fatto promotore, insieme ad altri colleghi, di una interrogazione scritta alla Commissione europea che chiede che venga attribuita priorità assoluta alla lotta contro la demenza senile. La popolazione europea invecchia, i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dicono che sono oltre 6 milioni le persone in Europa che sono affette dal morbo di Alzheimer. Un numero destinato ad aumentare. Ecco, per questo, nell'interrogazione, chiedo che vengono rafforzate la cooperazione fra gli Stati membri, nello studio, nella ricerca, che vengono condivise buone pratiche e che vengono fatti più investimenti. Anche di questa interrogazione trovate il testo nel mio sito internet. Vi saluto, quindi, ricordandovi che per qualsiasi richiesta, commento, potete scrivere una mail all'indirizzo damiano.soffoli-ep.europa.eu Un caro saluto a tutti.